Oggi vi parlo di Enrico Caffè, direttamente da Barletta, che si trova in Puglia. Abbiamo questo caffè, l'aroma di ogni momento. Questa linea rossa e anche il decaffeinato sono ovviamente compatibili con la mia macchinetta lavazza a modo mio. Abbiamo 15 capsule per ogni contenitore. Ovviamente io già il caffè l'ho provato, è veramente squisito. Lo potete trovare direttamente sul sito enricocaffè.it per poter ordinare tantissime capsule compatibili con la Nespresso, ma anche con la Dolce Gusto, insomma tantissime altre. Vi consiglio di andare a visitare il sito e presto vi farò vedere anche un'altra ricettina. Grazie a tutti.